Onorevole Molteni, al Senato è stato proposto il dimezzamento delle pene in concorso esterno irricevibile e poi ritirato. Ad ogni modo la posizione della Lega su tale proposta qual è? Noi abbiamo immediatamente contestato questo disegno di legge, un disegno di legge vergognoso, un disegno di legge irricevibile che mirava a ridurre, anzi a dimezzare le pene per il concorso esterno in associazione mafiosa. Le pene nei confronti dei mafiosi non vanno ridotte, vanno fortemente aumentate e una forza politica come la Lega che ha fatto della lotta alla criminalità, organizzata ottenendo risultati importantissimi con l'ex ministro Maroni non poteva accettare e non può accettare provvedimenti come questo. Fortunatamente è stato ritirato ma ci sarà da parte nostra la massima attenzione affinché provvedimenti vergognosi, provvedimenti scandalosi di questa natura non vengano più ripresentati. Noi lotteremo affinché la lotta e il contrasto alla criminalità organizzata sia fatta in maniera molto più seria e molto più dura.